Questa sera io sento molto forte il guido di tutti i fratelli. Croce Rossa Cinese ha voluto fortemente questa donazione, si è messa a disposizione in maniera molto generosa e questo fa sentire l'universalità del nostro movimento, quanto è importante. Noi, noi, noi! Noi, noi, noi! Il materiale ospedaliero lo doneremo al nostro governo per la distribuzione nelle strutture sanitarie. Noi, noi, noi! Noi, noi, noi! 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 Noi, noi!